La fornitura di tubi alla TAP non avrebbe risolto la grave crisi dell'Ilva. Il siderurgico di Taranto ha bisogno di ben più corpose quantità di ordini per risalire la china. Pensate, pareggia i conti se produce 8 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Attualmente ne sta producendo appena 2. Questo tanto per capire l'entità della sofferenza, la gravità della crisi. Quindi non sarebbero state le 170 mila tonnellate d'acciaio per la TAP a sanare la situazione. Però sarebbe stata una iniezione di fiducia, una piccola boccata d'ossigeno. E sarebbe stata anche l'occasione per riconciliare la TAP con il territorio. Il consorzio svizzero ha perso una buona occasione per dimostrare alla Puglia e dal Salento che è davvero attento anche alle vicende sociali delle aree che attraversa con i tubi del gas. Ma la più grossa occasione l'hanno persa i politici, quelli nazionali, anche quelli, soprattutto quelli regionali, a cominciare dal governatore. Tutti quelli che conducono, hanno condotto e stanno conducendo una battaglia contro il gasdotto. Beh, adesso dove sono finiti? Adesso che avrebbero dovuto alzare la voce per imporre alla TAP di acquistare i tubi dall'Ilva, si sono nascosti. Bel coraggio. La fornitura dei tubi era l'occasione, da una parte per dare una mano all'Ilva, e dall'altra per ottenere dal consorzio TAP il rispetto che meritiamo, che viene spesso chiesto a vambere a voce, nei comizi, nei cortei. Un'occasione buttata al vento. Nessuno ha avuto il coraggio di fare questa volta, sì, cortei, comizi, conferenze stampa, di correre a Roma, di correre in Svizzera per far fermare i lavori a Taranto, la commessa a Taranto. Quando c'è da fare populismo, tutti pronti, in prima fila, a gridare di no. Quando c'è da portare fatti, soluzioni, tutti a casa. L'Ilva non si sarebbe salvata con la commessa del gasdotto, ma purtroppo, probabilmente, non si salverà più. Solo che alla politica pugliese non gliene interessa più di tanto.